Egregio Presidente Mattarella, siamo giovani cittadine, le studentesse e gli studenti della Sapienza, da otto mesi in mobilitazione e da undici giorni in presidio permanente all'interno della nostra università. Durante questo lungo percorso abbiamo lottato contro il genocidio in Palestina e ci siamo interrogate sulla complicità della nostra università nel massacro che continua ad acuirsi proprio in questi giorni. Le uniche risposte che abbiamo ottenuto sono state silenzi, fughe e manganelli in maniera indiscriminata, un muro di gomma che è in contraddizione con l'approccio critico che è la condizione necessaria per la libertà della ricerca. La invitiamo pertanto a raggiungerci al presidio delle tende per avere finalmente quel confronto con le istituzioni che da tanto tempo ormai chiediamo. Dove sei? Dove sei? Polimeri, dove sei? La voce degli amici di tutti i mesi non ricevono la risposta. Allora Polimeri, devo essere chiaro che gli amici non cambia la vita, devo essere chiaro che non siamo e non saremo mai complici del genocidio. Presidente, questo è quello che facciano le studentesse in tutte le università italiane. Presidente, le due piani di una cosa importante. L'Italia non è Israele, l'Italia non è l'Aleonardo, l'Italia siamo noi, siamo le cittadine e i cittadini e le stiamo chiedendo il conto, Presidente. Ce lo vengono a portare! Viva la nascita! Gli warla Viva la historia A vicino viva Viva la historia Gli warla Viva la rifania Grazie a tutti.